Iniziamo il test drive di questa Mercedes classe B 160 allestimento premium. La vettura ha percorso 144 mila chilometri, sta facendo tutto il check, tutte le spese sono accese e tutte si sono regolarmente spente. Vediamo se è ben allineata. Perfettamente allineata anche in frenata, motore silenzioso, brillante. Buona la frenata, si è comportata bene. La telecamera si è spostata. Non l'avevo stretta bene. Adesso proviamo il cambio F1 al volante. Prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Siamo riusciti, grazie a tutte le marce, anche in spazio. Vediamo la renomafia. Perfetto. Delettiva anche la telecamera. Vettura in ottime condizioni. Abbiamo tutte e quattro i vetri elettrici, specchietti elettrici anche con la chiusura. Poi qui abbiamo il compito di bordo. La vettura ha percorso 144.666 km. Poi leve F1 e i comandi del cambio sono qui. a posto di tipo dei tergicristalli. Poi abbiamo la radio. Il volume lo possiamo gestire anche da qui. Telefono che va configurato. Adesso torniamo da qui. Si può comandare sia da qui che da qui. Lo portiamo. Allora. Ok. No. Azzerare no. Ok. Navigazione. Qui siamo a Navi. Ok. Destinazione. Navigatore. Andiamo ad audio. E qui spostiamo le stazioni. Poi possiamo andare al telefono. Il servizio bluetooth è attivo che va configurato. Nessun disco presente. Sistema. Mettiamo l'orario. per le impostazioni del display. Per le impostazioni del display. Mercedes app. Radio internet. Pagina web Mercedes. E la navigazione. su internet. Preferiti internet. Poi. Attivare e disattivare il sistema ecologico. Senso di parcheggio. Anteriori e posteriori. Per disattivare gli anteriori. riseriti riscaldati. Qui abbiamo i comandi dell'aria condizionata. La temperatura. Sbrinatore anteriore. Sbrinatore posteriore. I spostamenti dell'aria. E la velocità. La ventola. Il circolo. E l'aria condizionata. E la velocità. E esternamente ci segna 24 gradi. L'uscita appena accesa. 22. Aspettiamo un attimo. 18. Sta scendendo. L'aria condizionata. Ok. Fari. E vernice ben lucente. Linee. Perfettamente. Parallele. Non ci sono segni. in particolare. Pannello. Corsantiera. Volante in pelle. In ottime condizioni. Con i pulsanti. Cruscotto. Console centrale. Sedili in pelle. Perfetta. Anche la seduta. Perfetta apribile. Posteriore panoramico. E anteriore. Apribile. Posteriori. Perfetti. Perfetto. Perfetto. E vanno a pagagli. Equipaggiata. Di cerchio in lega. 2. 25. 45. 17. Perfetto. 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 7 e 2 Aprendo il vano motore Confermo l'integrità della vettura Tutti attacchi originali Possiamo riparare o malomissione Il vano è ben asciutto In linea Benuzioso Confermo L'ultimo stato della vettura In linea con l'anno e il suo chilometraggio 144.000 km 24.000 km E' anche un sacco Prima Parola Il sombrato Parola Per Il 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.